Domenica 17 marzo nella parrocchia di Santa Maria del Popolo sarà benedetta una campana nuova ex novo dedicata alle vittime del covid. Domenica prossima celebreremo a livello nazionale la quarta giornata dei caduti delle vittime da coronavirus che è legge dello Stato e quest'anno ricorre il quarto anniversario. Noi ci proponiamo come sempre ad essere per la città di Torre il luogo della memoria. Questa campana vuole ricordare allora i tanti torresi che durante il flaggello dell'ultima pandemia hanno perso la vita e quindi noi questa campana la vogliamo dedicare a loro. Nessuno di questa campana sia la loro voce che risuonerà per tutta la città. Un ulteriore simbolo per questa chiesa che diventa anche un monumento civile, un monumento della città di Torre del Greco perché è un autentico luogo della memoria insieme ad un'altra scultura, ad un altro bene monumentale presente all'interno delle mura. Sì, nella nostra parrocchia noi siamo custodi della memoria di tutti gli eventi purtroppo brutti che si sono avuti ultimamente ma anche si ricorda, si custodisce la memoria di tutti i civili torresi morti durante l'ultimo conflitto mondiale e qui entrando nella parrocchia a sinistra della entrando troverete questo monumento che ricorda questo flaggello che Torre ha subito nell'ultima guerra. Invito allora domenica prossima alle ore 12, quindi domenica 17 marzo alle ore 12 alla Santa Messa, Invito soprattutto i familiari di coloro che sono morti per Covid a questa celebrazione durante la quale ci sarà la benedizione della nuova campana. Ne approfitto anche per ringraziare l'amministrazione comunale che ha patrocinato questa iniziativa. Prossime manifestazioni in programma nel calendario sia liturgico che delle attività della parrocchia di Santa Maria del Popolo? Questa comunità Santa Maria del Popolo nasce come ospedale civile di Torre e qui per tanti anni è venuto a far visita e tanti torresi lo ricordano molto bene nella memoria che si è tra la tradizione orale che si è tramandata di generazione in generazione veniva a fare visita un famoso medico, oggi santo Giuseppe Moscati e per custodire e per non perdere questa memoria della presenza e del bene che ha compiuto Giuseppe Moscati, San Giuseppe Moscati, noi il mese prossimo daremo il via a una manifestazione realizzando un'immagine, una statua che vuole rappresentare San Giuseppe Moscati e sarà qui custodita e questo segno della statua che per la pubblica venerazione dei tanti devoti di Torre a questo santo sarà anche quello un segno che ci ricorda la memoria di una figura non solo di alto profilo professionale medico ma anche un alto profilo di santità.